Questo brano, composto da John Lennon, costituisce sempre in più uno tra i più becati natalizi degli ultimi decenni. In esso la festività del Natale è vista come un momento di riflessione, in un'occasione per rafforzare l'amicizia e la fraternanza tra gli uomini, perché sparisca per sempre l'incubo della guerra, work is over if you want it. In esso la festività del Natale è vista come un momento di riflessione, La festività del Natale è vista come un momento di riflessione, La festività del Natale è vista come un momento di riflessione, Grazie a tutti. 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 Buon Natale, buon anno dei ragazzi di Porta, Porta Vita, tutti i maestri.